Il tuo figlio di Giro Il tuo figlio di Giro presto! Luigi! Ma che è Luigi? Sta partendo la funicolare, sali 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 Tu sei una persona intelligente Questa non è la funicolare, questo è l'ascensore serve a salire e a scendere Ma perchè la funicolare? Sali 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 E fatti i biglietti, fatti i biglietti E fatti i biglietti, fatti i biglietti E fatti i biglietti, fatti i biglietti E partiti, partiti Ma che partiti che stanno firmando in su Qua? Partiti, partiti buonasera Qui è il comandante Cicco che vi parla Siamo a bordo della funicolare Mergellina Ma che è Sandro Giotti? Cicco dove dobbiamo arrivare? Mergellina, Napoli Mergellina Che mergelliamo? Una maga Cicco